Controlli sempre più intensi per i carabinieri del NAS di Pescara volti a garantire sicurezza alimentare e sanitaria dei clienti di attività pubbliche di diversa natura. Tre i sequestri amministrativi di rilievo effettuati nei giorni scorsi tra le province dell'Aquila e di Teramo durante una serie di operazioni di ispezione rispettivamente in un ristorante aquilano, in residenze in un centro benessere nel Teramano. Gravi carenze igienico-sanitarie e alimenti risultati non tracciati, i militari hanno proceduto al sequestro di 35 kg di prodotti carne e freschi e di preimballati, congelati senza rispettare le norme sulla tracciabilità, risultati inoltre anche con data di scadenza decorsa di validità. Nelle residenze sopracitato sono stati sequestrati circa 100 kg di alimenti di origine animale e vegetale, rinvenuti nei congelatori con pellicole protettive anonime e anche in questo caso con etichette con data di scadenza oltrepassata. Nel centro benessere del Teramano, invece, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno acclarato la presenza al suo interno di un'area adibita all'erogazione di cure termali inalatorie, con vere e proprie prestazioni sanitarie per le quali però la struttura è risultata priva di autorizzazioni.